Lavoria e il sole Noi ora, lo vinto da lavoria e il sole, ci sceglievano perché l'uno potrebbe essere il più potente dell'avete. Quando vedono un uomo che veniva niente abbruttato nella cappa, ma i due sceglievatori ci convincono che deve essere il più potente che riesce a farloare all'uomo la cappa di Angud. Lavoria comincia a sceglieva per tutta la forza, ma più sceglieva più l'uomo ci sceglieva nella cappa, tanto che alla fine lo povero vinto dovrebbe rinunciare da quella pensata. Lo sole, ma ci mostrò un trucco e dopo un po' l'uomo che ci sceglieva ci ha levato la cappa. A così lavoria gli è stata costretta a accettare che lo sole è il più potente di esso. Ti è piaciuto il racconto? La torniamo a dice? La torniamo a dice? La torniamo a dice? La torniamo a dice?